ciao e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi vi parlerò dei due nuovi modelli di aerografo di casa ibata ovvero il micro nell'eclipse takumi intro prima di andare avanti con il video faccio una premessa questo è un video che sto facendo di iniziativa mia dato che in diversi mi avete chiesto informazioni riguardo agli aerografi che sta pubblicizzando ibata è uscito un articolo sul loro blog e sono uscite delle immagini sul loro account instagram e vi lascio il link sotto in descrizione dato che molti di voi non parlano inglese non avevano modo di tradurre i banner eccetera cosa ho fatto ho chiesto il permesso a ibata per poter fare questo video loro hanno consentito alla realizzazione di questo video però mi è stato chiesto ovviamente di far presente che un video di mia iniziativa che non ha nulla a che vedere che non è sponsorizzato da ibata detto questo andiamo avanti parliamo di questi due nuovi modelli di aerografo di casa ibata entrambi mantengono la stessa particolarità dei modelli precedenti ovvero la possibilità di poter orientare la coppetta sia a destra che a sinistra questo si traduce che lo stesso modello può essere utilizzato sia per utenti destri che mancini una delle prime cose che risalta subito all'occhio di questi due nuovi modelli è sicuramente la coppetta laterale che è stata impiegata che non ha nulla a che vedere non assomiglia minimamente a quella del modello precedente che aveva tutta un'altra tipologia di aspirazione il modello nuovo invece lavora per gravità in cosa si traduce stando a quello che ci dice ibata tramite il suo blog lavorando per gravità il aerografo avrà molta più reattività e questo si traduce in molta più prontezza nel nebulizzare nello spruzzare il colore la coppetta di serie da 7 ml però è possibile acquistarne a parte anche una da 3 ml quindi più piccolina non so se sarà provvista di tappo come quella di serie da 7 ml o meno e se si potrà acquistare soltanto la coppettina o anche il pezzettino di sotto con l'innesto che si va a inserire all'interno dell'aerografo infatti la nuova coppetta si potrà disassemblare in tre componenti il tappo la coppetta e la parte dove si avvita la coppetta con l'innesto che si va a inserire all'interno dell'aerografo è stata fatta smontabile proprio per facilitarne la pulizia io ho un'impressione correggetemi se sbaglio rispetto al micron ora parlo del micron non delle clips rispetto al micron del modello precedente ho l'impressione che il passo sia molto più corto per passo cosa intendo la distanza che c'è tra il puntale la punta del lago e il tasto il pulsante che azioniamo per far uscire l'aria e che arretriamo per far uscire il colore ho questa sensazione che si sia ridotta questa distanza purtroppo non ne ho ancora la certezza quindi prendetela come un'informazione prendetela con le pinze è soltanto una mia sensazione basandomi sulle immagini che sto vedendo inoltre ho provato a fare una sovrapposizione del vecchio micron con quello nuovo effettivamente mi ribalza all'occhio questa cosa qui però potrei sbagliarmi io con le proporzioni delle due immagini quindi aspetteremo che esca in commercio e che qualcuno che lo possiede confermi o smentisca quello che sto pensando io oppure meglio ancora spero prima o poi di possederlo per poter fare anche una comparativa fra il nuovo e il vecchio modello inoltre ivata ha fatto una sorta di domanda rispondi sul loro blog e ve lo vado a tradurre elencandovi i vari punti che mi sembrano più salienti per chi si chiede cosa vuol dire takumi takumi tradotto in italiano vuol dire artigiano è un hanno chiamato così questa linea e dovrebbe essere pensata per gli artigiani loro ci indicano per chi ha pensato il micron e per chi ha pensato l'eclipse fondamentalmente io non so se dirvelo o meno perché potrebbe aver poco senso per chi ha pensato ovviamente avranno due misure di dose differente il micron non so se uscirà solo nella dimensione 018 023 o se avrà una nuova misura di dose perché questo non lo sappiamo ancora e il nuovo eclipse potrebbe avere la stessa misura di dose quindi basandosi su quello è facile intuire per chi sono pensati questi due modelli l'eclipse sarebbe un ottimo all around che permette di coprire numerose situazioni mentre il micron sarebbe un aerografo studiato e pensato per gente che ha certe determinate esigenze e vuol fare magari dei dettagli della roba in piccolo delle robe fatte in una certa determinata maniera e alla necessità di avere un attrezzo con delle performance che solo il micron può offrire perché si stesse domandando e questo l'ha scritto anche ivata il nuovo micron è a tutti gli effetti un micron beh direi di sì come scrivono anche loro è stato studiato apposta per offrire quelle performance che chi è abituato a maneggiare un micron potrà ritrovare in un nuovo modello e stando a quanto hanno detto loro ci dovrebbero essere delle performance migliori alcuni punti migliorati per cui diciamo che si va di bene e meglio si è un micron a tutti gli effetti e rispecchia tutti gli standard che ivata ci ha abituato finora con i suoi micron e ovviamente viene da domandarsi ma uscendo questi due nuovi modelli il vecchio micron cmsb e l'eclipse sbs sono fuori produzione si sono andati fuori produzione ma ivata ci rassicura che verranno ancora prodotti e troveremo nei negozi senza problemi le parti di ricambio per cui per chi come me pensate io ho comprato il micron non molto tempo fa ora esce il modello nuovo è stata la prima cosa di cui sono andato a sincerarmi ed effettivamente per fortuna ancora per gli anni a venire possiamo trovare pezzi di ricambio nei negozi o negli store online e loro ve li produrranno ancora questa è una domanda del domande rispondi che ha pubblicato ivata che trovo ma non superflua perché fondamentalmente vi ho già risposto a questa cosa qua basandomi sui loro dati i nuovi modelli spruzzeranno come quelli vecchi si stando a quanto ci dicevata però avranno maggior controllo maggior reattività maggior comfort nell'utilizzare l'aerografo per cui si manterranno gli standard delle vecchie serie con alcune migliorie che sono state aggiunte una domanda interessante è il retrofit ovvero se si possono acquistare delle parti dei nuovi modelli da montare sui modelli precedenti ivata dice che non tutte le parti sono compatibili con il vecchio modello ma alcune parti possono essere compatibili e acquistate a parte quindi possiamo montarle sui vecchi modelli ad esempio stando a quanto ci dicono loro il grilletto ovvero il pulsantino che noi schiacciamo che arretriamo per far uscire all'aria il colore e la parte di dietro in questo caso credo sia riferito all'eclipse con il regola battuta del lago che ci permetterà di bloccare di non far arretrare l'ago più di tanto saranno compatibili con le vecchie versioni di eclipse il pulsante sarebbe interessante perché se effettivamente più comodo potrebbe migliorare per via mari dell'ampiezza che ha il controllo è una cosa interessante la parte di dietro ad esempio sull'eclipse che ci va a regolare la battuta del lago potrebbe essere un pro sia sui modelli nuovi o da fare un retrofit sui modelli vecchi per chi si avvicina ora all'aerografia però fondamentalmente con l'eclipse si è aerografato tanto per tutti questi anni senza la battuta del lago credo che a meno per chi si avvicina ora proprio all'aerografia e ha alcune difficoltà e vuole impostare la battuta del lago per il resto sia una cosa superflua e potrebbe non aver senso fare il retrofit sul modello precedente di eclipse ovviamente questo è un mio parere personale ora andiamo ai prezzi i prezzi che sono stati consigliati e pubblicati sono prezzi per il mercato americano non so se saranno i prezzi definitivi della vendita al pubblico o semplicemente dei prezzi di listino però il micron costerà circa 585 dollari all'incirca 490 500 euro se a mente non sbaglio a fare il cambio però ripeto questo non sappiamo se sarà un prezzo di listino sempre riferito al mercato americano o se sarà un prezzo definitivo di vendita al pubblico ovviamente dovremo vedere una volta che saranno disponibili in italia che prezzo avremo qua al pubblico e andando all'eclipsi il prezzo per il mercato americano e anche qui ripeto non sappiamo se è un prezzo di listino o definitivamente il prezzo al pubblico sarà di circa 199 dollari ovvero circa 170 euro 175 euro se non sbaglio però anche qui dovremo vedere una volta che arriva in italia che costo avrà con eventuali spese di importazione con l'iva che noi abbiamo al 22 per cento e dovremo vedere un attimino che costi avrà nel complessivo come ultima cosa ci rimane da dire quando uscirà in commercio stando a quanto ci dice vata uscirà in commercio a fine estate 2021 non sappiamo se questa data sarà per il mercato globale o solo per il mercato americano o quando arriveranno in italia io comunque sia mano a mano che ho novità cercherò di tenervi aggiornati sia tramite le storie di instagram che eventualmente se il numero di informazioni che mi arrivano sono importanti da realizzarci un nuovo video cercherò di realizzarci un altro video in modo tale da tenervi aggiornati queste informazioni le potete trovare sul sito ivata e sull'account instagram divata e trovate tutti e due i link sotto nella descrizione del video fatemi sapere un attimino cosa ne pensate voi di questi due modelli cosa avete notato cosa vi ha colpito se avete intenzione di acquistarli e se avete intenzione di puntare al micron o alle clips fatemelo sapere nei commenti se il video vi è garbato lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale a me non resta altro da fare che intanto ringrazio arrivata per avermi autorizzato a fare questo video e non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao ciao